secondo il misticismo ebraico esiste un luogo particolare questo luogo che si trova nel settimo cielo viene chiamato guf oppure ozzar meglio conosciuto come il salone delle anime nel salone delle anime risiedono tutte le anime in attesa di incarnarsi quando le anime scendono sulla terra possono essere viste soltanto dai passeri e ogni qual volta un passero canta significa che un'anima sta prendendo possesso del suo corpo ma nel salone delle anime il numero delle anime è limitato e quando i passeri smetteranno di cantare e nascerà un bambino senza vita significa che il salone delle anime è rimasto vuoto e sarà l'inizio della fine perché vi sto raccontando questa storia perché questa storia mi fa venire in mente alcune domande ma quando l'anima finisce il suo percorso terreno e non può più ritornare al guf può reincarnarsi in un altro corpo e se questo è possibile quest'anima o coscienza chiamatela come volete può entrare in un altro corpo varie volte all'infinito in pratica questo ci porta al concetto dottrina della reincarnazione secondo voi è possibile prima di rispondere però voglio raccontarvi anche alcune altre storie storie che forse vi faranno un po' cambiare la risposta che stavate per darmi questo è frontiere proibite io sono roberto lapaglia vi saluto vi porto il saluto del giornale dei misteri nuova puntata nuovo mistero la dottrina delle della reincarnazione il misterioso caso delle sorelle pollock e non soltanto questo restate con me subito dopo la sigla inizieremo a parlare il caso delle sorelle pollock può essere considerato come molti ricercatori pensano come la prova della dottrina della reincarnazione prima di provare a rispondere a questo quesito proviamo ad analizzare meglio lo scenario che fa da sfondo all'argomento del quale ci stiamo occupando l'anima lo spirito la coscienza può reincarnarsi in un altro corpo fisico nella sua forma classica il pensiero sulla reincarnazione o dottrina della reincarnazione viene formulato in india non prima del nono secolo mentre nella sua forma definitiva è databile tra il settimo e il quinto secolo avanti cristo differenti invece le vicende che riguardano l'area mediterranea in grecia ad esempio nel platonismo si credeva alla preesistenza dell'anima nel mondo celeste e alla sua ricaduta nel mondo terreno a causa del peccato un concetto molto più chiaro riguardo alla trasmigrazione delle anime era invece quello portato avanti dai sacerdoti druidi come ricorda anche giulio cesare ovvero che dopo la morte le anime non si estinguessero e realizzassero questa loro immortalità con infinite reincarnazioni i contributi e gli studi più importanti in tempi moderni dati a questo argomento sono quelli forniti dal dottor ian stevenson e contenuti nel suo libro 20 casi suggestivi di reincarnazione a questo punto possiamo ritornare al soggetto di questo episodio anno 1957 john e florence pollock vivono tranquillamente ad exam nel not amberland in inghilterra insieme alle loro due figlie jacqueline di sei anni e joanna di undici il 5 maggio del 1957 mentre si recavano in chiesa un tragico incidente automobilistico costò la vita alle due giovani figlie oltre che ad un amico di famiglia un anno dopo il 4 ottobre del 1958 la madre diede alla luce due gemelle gillian e jennifer ma quando entrambe furono abbastanza grandi per parlare accadde qualcosa di inquietante ed era soltanto l'inizio ben presto infatti iniziarono a chiedere e identificare dei giocattoli cosa del tutto normale per due bambine tranne per il fatto che si trattava degli stessi giocattoli appartenuti alle due sorelle morte nell'incidente iniziarono poi a riconoscere dei ben precisi punti di riferimento punti che soltanto le sorelle avrebbero potuto conoscere come ad esempio la scuola che avevano frequentato ed un parco proprio vicino a quella scuola in particolare le due altalene che solitamente preferivano le loro due sorelle ma in realtà il primo fatto inquietante si era già verificato subito dopo la loro nascita il padre infatti si era accorto che jennifer aveva sulla fronte uno strano segno bianco molto simile alla cicatrice che si era procurata la sorella jekylline cadendo con la bici anche la sorella gillian aveva un particolare inquietante sulla sua gamba infatti si notava la stessa voglia che aveva johanna gillian e jennifer in seguito iniziarono a chiedere ai loro genitori delle bambole bambole appartenute a johanna e jekylline e che chiamarono con lo stesso nome che le avevano attribuito le sorelle infine fatto non meno inquietante le due sorelle conoscevano perfettamente ogni dettaglio del tragico incidente anche se i genitori non ne avevano mai parlato in loro presenza le due sorelle infatti vennero a sapere i dettagli soltanto in età adulta si trattò realmente di un caso di reincarnazione tra i tanti studiosi che si occuparono del misterioso caso delle sorelle pollock ci fu anche il dottor jan stevenson al quale abbiamo accennato in precedenza dell'università della virginia il quale studiò non soltanto le sorelle pollock ma anche molti altri casi simili per oltre 50 anni il caso delle sorelle pollock presenta numerosi aspetti tipici della reincarnazione ma allo stesso tempo è uno degli enigmi più complessi che siano stati studiati in quanto racchiude molti elementi che difficilmente si possono spiegare come delle semplici coincidenze gillian pollock ad esempio reggeva la matita correttamente mentre jennifer la teneva stretta nel pugno replicando in tal modo lo stesso comportamento delle due sorelle scomparse gillian e jennifer erano due gemelle omozigote ma perché questo particolare riveste tanta importanza in questa storia gillian e jennifer infatti essendo gemelle omozigote avrebbero dovuto avere sul loro corpo gli stessi segni dovuti all'ereditarietà mentre presentavano segni diversi così come nel caso delle loro sorelle defunte nello specifico jennifer presentava tre piccoli segni sul naso nello stesso punto dove la sorella defunta jaclyn aveva subito un piccolo intervento chirurgico all'età di tre anni che gli era costato tre punti di sutura gillian presentava un neo sulla vita sul lato sinistro lo stesso segno che aveva la sorella defunta joanna entrambe le sorelle presentavano una profonda fobia verso le automobili e quando ne vedevano passare una per strada istintivamente abbracciavano i loro genitori quasi in cerca di protezione si trattava realmente della reincarnazione di jaclyn e joanna secondo il dottor stevenson il caso delle sorelle pollock sarebbe uno dei più significativi e la prova appunto della reincarnazione ma il caso delle sorelle pollock per quanto ricco di spunti di riflessione non è certo l'unico di particolare importanza ci troviamo nel 1971 quando l'ipnoterapista gallese arnal bloxham inizia i suoi studi su un soggetto identificato convenzionalmente con il nome di jane ivans si trattava di una donna del galles la quale durante una delle sedute di regressione ipnotica iniziò a parlare in modo strano dimostrando evidenti sintomi di doppia personalità ed asserendo di essere vissuta a york durante il dodicesimo secolo il suo nome era rebecca una donna ebrea che per sfuggire all'inseguimento di un gruppo di antisemiti si rifugiò insieme alla sua famiglia nella cripta di una chiesa nel corso delle successive indagini non soltanto venne rintracciata la chiesa ma anche il sotterraneo nel quale rebecca disse di essersi rifugiata sotterraneo che tra l'altro corrispondeva esattamente alla descrizione che aveva fornito jane ivans oltre ai fatti appena citati ricordo molte altre vite descrivendosi anche come la moglie di un insegnante in epoca romana come la serva di un mercante francese come la damigella d'onore di caterina d'aragona come un servo della regina anna d'inghilterra e infine come una monaca americana del diciannovesimo secolo nonostante le storie che abbiamo raccontato lasciano riflettere positivamente sulla genuinità di questo fenomeno bisogna anche ammettere che esistono alcuni casi che possono essere spiegati proprio con la nostra memoria si tratta della criptomnesia un fenomeno conosciuto dalla scienza anche con il nome di memorie perdute secondo questa teoria la memoria umana sarebbe in grado di accumulare miliardi di informazioni ma non di renderle sempre e comunque disponibili avverrebbe quindi una vera e propria selezione in base alla quale soltanto i ricordi più giovani o comunque ritenuti più urgenti rimangono costantemente impressi mentre tutto il resto verrebbe messo da parte in maniera più o meno profonda tra questi ricordi accantonati figurerebbero anche tutte quelle informazioni che al momento non ci accorgiamo di aver captato dati che rimangono nella memoria come ricordi dormienti almeno fino a quando un qualunque stimolo non li solleciti facendoli riemergere e dando l'impressione che riguardino una vita passata proviamo a fare alcuni esempi un uomo durante una seduta di ipnosi regressiva si descrive come un personaggio vissuto nel settecento ma al suo risveglio ricorda che si trattava di scene che aveva già letto in un libro e che poi aveva successivamente dimenticato oppure una donna inizia a parlare in latino ma in seguito al suo risveglio ricorda di aver lavorato per uno studioso che aveva l'abitudine di leggere ad alta voce libri scritti appunto in latino come sempre ci troviamo su una linea di confine difficilmente identificabile nella quale spiegazioni scientifiche e ragionevoli dubbi non sempre riescono a dare un volto definitivo al mistero voi cosa ne pensate il nostro viaggio si conclude qui io vi ringrazio per avermi fatto compagnia vi invito ad iscrivervi al canale a lasciare i vostri commenti i vostri like vi saluta il giornale dei misteri il nostro appuntamento è per la settimana prossima lunedì con oltre frontiera la rubrica nella quale rispondo alle vostre domande alle vostre curiosità e successivamente il giovedì con le puntate classiche di frontiere proibite grazie per avermi fatto compagnia ci vediamo al prossimo mistero alla prossima frontiera da varcare ciao a tutti